Salve a tutti amici e benvenuti nel primo video del 2019 Ho tardato il mio arrivo con il primo video semplicemente perché sono stato influenzato Non ho avuto modo di riuscire a creare contenuti e quindi eccomi qui Eccomi qui a raccontarvi un piccolo aneddoto, un passaggio che ho fatto in questi giorni festivi Che non mi sarei mai aspettato di fare Verso fine anno ho fatto un ragionamento e ho deciso di cambiare piattaforma dello smartphone Mettiamola in questo modo qua Ho abbandonato l'iPhone ed ecco il messaggino che arriva da un Android Adesso vi mostro cosa ho preso Ero leggermente più stufo del sistema Apple Non che ero stufo del sistema Apple perché io comunque continuo ad utilizzare prodotti Apple Ma mi sono reso conto nel tempo che abbandonare la piattaforma Apple come macchina da lavoro Non è stato traumatico così come è stato con il PC E quindi mi sono detto Voglio provare ad utilizzare un telefono, uno smartphone completamente diverso Ma che sia dell'altra sponda, quella di Google Perché avevo comunque delle necessità che purtroppo Apple non mi poteva dare Come l'utilizzo di una porta USB sotto per caricare dei dati Registrare telefonate Ci sono una serie di cose che purtroppo con iPhone mi risultavano molto più complesse da fare Mentre con un cellulare Android è completamente diverso Ed ecco perché io dopo aver provato e testato per un mese e mezzo l'iPhone XS Max Dove volevo realizzarci un video completo Ma fondamentalmente è un iPhone come gli altri Ossia è un grandissimo smartphone Paradossalmente uno dei migliori nella mia top list di preferenze Ma non è il primo Il primo è quello che poi ho scelto Per una serie di motivazioni personali anche Ho scattato delle foto, dei video con iPhone Mi sono divertito, ha una camera fantastica Quindi è un ottimo camera phone grande Come tantissimi altri smartphone di quella portata, di quella fascia Ma iOS mi aveva leggero un pochino stufato iOS mi aveva dato tante soddisfazioni nella semplicità d'uso Ma quando poi ti rendi conto di voler qualcosina in più Di voler personalizzare qualcosina in più Di voler andare un pochino nel dettaglio Purtroppo lì tutto il mondo Apple cade e crolla Così come è stato anche con i computer, con le workstation Finché tu devi fare il tuo lavoro Non devi uscire dai canoni Ok funziona tutto Appena vuoi mettere mano a un determinato particolare Ad esempio far andare la scheda video più veloce su Da Vinci Detto, non dico una stupidaggine Vuoi overclockare Là diventa impossibile farlo Perché il sistema è chiuso ed è fatto per non essere aperto E non ci puoi sbirciar dentro Così invece è in differenza di altri sistemi Ed è per questo che ho scelto di prendermi un Note 9 Samsung era la mia seconda scelta In verità nella mia lista di preferenze Era la prima come caratteristiche questo smartphone Ma perché sceglievo sempre Apple Ho scelto di prendere un iPhone XS Max Che ho prontamente dato via E mi sono procurato Mi sono comprato un Note 9 Black 128GB 6GB di RAM Se non vado errato Questa era la configurazione Quindi ho fatto questa mia piccola Ho fatto questa mia piccola scelta Me ne pentirò? Non penso Ormai sono 10 giorni che lo utilizzo E la mancanza del mondo Apple Non si fa sentire Ma vorrei sapere anche la vostra Quindi con questo breve video Volevo raccontarvi questa mia breve esperienza Che è un piccolo viaggetto che ho intrapreso E vorrei saperne voi cosa ne pensate Se passereste voi da iPhone ad Android O se avete fatto il contrario Quindi lasciatevelo scritto qui sotto nei commenti Cosa altro dirvi? Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Seguitemi e iscrivetevi al canale Per non perdervi tutti i prossimi video Cosa altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima Con un nuovo video